Investire nella famiglia conviene a tutti. Con queste parole i responsabili del centro competenza famiglia di Bolzano hanno spiegato perché hanno deciso di dar vita ad una campagna di sensibilizzazione dal titolo Tutto il bene torna. Fino al 9 giugno saranno diverse le iniziative in programma per fornire spunti di formazione e di lavoro in rete pensate proprio per le famiglie altoatesine. Le diverse iniziative sono molto variegate, ci sono degli spettacoli in igua tedesca e italiana, abbiamo pianificato anche un'escursione per famiglie dove famiglie tedesche, italiane, extracomunitarie, tutte quelle che vogliono possono insieme ad altre associazioni venire a Monte Virgilio per esempio. Abbiamo con le biblioteche trovato una collaborazione e con i nonni ci sarà il 15 maggio che è la giornata internazionale delle famiglie, i nonni e le nonne possono leggere delle storie ai bambini, quindi diverse iniziative per le famiglie. Il gran finale è previsto dal 6 al 9 giugno a Renon con il festival della famiglia, ma quali sono le problematiche più sentite dalle famiglie moderne? La famiglia ad oggi incontra soprattutto problemi di mancanza di tempo, mancanza di tempo per i figli ma mancanza di tempo anche nella gestione del lavoro, dei lavori di casa, quindi il sostegno di cui le famiglie di oggi hanno bisogno è di riuscire a trovare un accordo tra famiglia e lavoro. Per visionare l'intero programma delle diverse iniziative basta entrare nel sito web www.fam.bz.it www.fam.bz.it www.fam.bz.it